Ciao a tutti, domenica 13 novembre alle ore 20, avrà inizio l'ottava stagione dei Diversamente Sardi. Avremo il piacere di visitare grazie alle loro puntate, meravigliosi monumenti dell'epoca nuragica. Ma la vera news sarà nella prima puntata del 13 novembre. Avranno l'onore di avere come ospiti un gruppo che ha fatto la storia della musica sarda, i Bertas. Assieme visiteranno il nuraghe Crabioni, situato di fronte al golfo dell'Asinara, nelle tenute Crabioni, azienda di 35 ettari assorso in provincia di Sassari. Una puntata imperdibile che mette assieme la storia nuragica, il mare, la musica e la produzione di vino. Vi aspettiamo!